Pierluigi Paracchi, founder di Quantica, benvenuto da Startup School. Grazie. Due domande velocissime. Ci racconti come è stata quindi la tua esperienza qui alla Startup School? Direi positivo è banale perché uno inizia, insegna e dice soltanto di positivo. In realtà è stata comunque interessante perché secondo me una delle cose fondamentali che manca è una delle sfide più difficili dal punto di vista professionale è la creazione di imprese. Nessuno ti aiuta o ti prepara a fare Startup. Invece questo è un metodo, è un modo, una scuola che ti insegna a fare Startup e insomma è fondamentale essere preparati per una sfida così difficile. Tre consigli per chi vuole aprire una Startup Internet in Italia? Ha molto coraggio, crederci, non ne elenco tre perché non ne attrae così in mente al volo. Proprio ci vuole una fiducia oltre la misura, stracrederci e individuare sempre l'obiettivo finale, non farsi deconcentrare dagli obiettivi a breve, avere sempre la luce, il faro acceso a quello che è l'obiettivo finale. Grazie mille. Prego.